Odi no, Gabbè, basta Gabbè, questa volta ho premuto il tasto giusto Guarda tutti i primi dei clan, io sono, siamo con Fiume Sì, sì, seriamente Vabbè, basta, mi faccio passare la voglia di fare la intro Colpa tua Ma zitto, Angelo, stai domando Dopo, dopo I ritorni di Emma, Marco Style sul canale L'obiettivo Ah, ma sta a fare un video Bravo Bravo Sparo, ma è sto gioco Dove, dove? Dove sta l'obiettivo? Sopera la torre Dopo a quel coso Dietro, dietro, Emma Guarda te, dove lo stavo ricaricando Mannaglia, oh, lo sapevo io Uno è in bagno Andrà che due secondi è stata Sopera Visto un attimo Madonna, che nabbo a pedali sono Che nabbo a pedali sono Ma quanto smiro, ragazza Ma quanto smiro Mentre ricaricando Ma io vedi che non gioca Si giocava troppo Oh, guarda Mi interranno Che dopo devo dire una cosa Ma perché la granata di Zofia dalla cam non l'ha capita Non ho sbagliato Ho sbagliato Ok, dai, hai sentito Ah, ma c'è Lorenzo vivo Allora sono morto Dai Rocky, lì, 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 lì Dove sta rimanendo prima Lì, lì, esatto Lì Lì No, ok Dai Non è vero Sinistra qui Lo sento Ah, affanno il culo Ma lo senti dentro? Lo senti dentro? Ti sta penetrando Ho 19 anni Ma siamo a testi Dai, dai, dai Spingete Bella sta stando, Rocky Guarda quanto è utile sta cam Drake, se mi dà l'indirizzo di casa ti mando quattro buttane per me Ne vedo uno, Barre Ma dov'hai? No Te l'ho dato comunque Raga, non c'ho questo gioco È un belimo un mese veramente Drake Se mi dà il tuo indirizzo di casa ti mando Ti mando di quattro buttane, pagate Non sa nemmeno dove sono Dai Ma fai schifo Eh, ma, ma, stile, stile, stile Un po' è schifo In garage a camper Ok Ma se mi son fatto pure vedere che campera l'edra Ma poi non pensavo fossi là Cioè, non ho visto a dove Ma se sei, lo hai visto Vabbè, le scuse Ma tu devi giocare anche il torneo Ma ma continuiamo per quest'inabbia il torneo Eh Allora, io ne mi sto Io non sto tryhardtando come te Chiariamole Questo tryhardtando Ma è, sto tryhardtando Io che lo gioco da un mese Allora E allora Non dire Che sono l'hub Sei diversamente up Eh, lo cattiene C'è, le giocate con le No, guardate come mi ho risciato la testa Un bambino Che c***o In bagno In bagno In bagno In bagno In bagno Guardate come lo hai lasciato la testa Guardi l'obiettivo, fra faccia rip da problemi probabilmente la maschera la maschera dai colpi alla testa forza ma sono un amico di rodi sono un amico di rodi vabbè ma non è un ema però ci si è un ema però poi agito nel nostro gergo essere un ema si deve essere scarsi tu chiedi a chiunque jack mi fai tanto poi salvati sempre quanto sto smirando chi è rimasto vivo e mamma costa ma lui ok allora è mio non è mio lascio mi sta ora muoci tu guarda io ma almeno tipo ucciso ma è una volta che proprio padre pio mamma mia il pubblico domani il video zitti questo deve sentire per un proiettato ma devo sentire 3 club pubblici domani al video no 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 dopo domani perchè la connessione va mai da noi ma come mi hai preso mi hai preso proprio perchè è tornato eccomi e il nostro ema non mi hai fatto un cazzo se tu ti devi aggannare non mi hai fatto un merembo si cazzo ho capito si quello che si spendeva il bombino drake ma sei una merda di persona no e no e no e dai i bombi dai i bombi no no rocky no che cazzo hai combinato oddio nooo ah sei libero è matto ho fatto un headshot che non so manco io come ho fatto che che è male ma io stavo ricaricando ehi ehi mi fai i fermi scusa mi sembra ti giuro mi sembra i fermi allora mi uccido perchè sono i fermi ti giuro mi sembra i fermi mo vaffanculo ti uccido perchè sono stato un cattivo bambino e hai smirato vado si ma perchè pensavo che si fermi ah grazia no 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 mannaggia Cosmo no tutti quanti vedono come smiro come sono scasso ora che io oggi ho giocato con tutta la famiglia non la volta direi che è già morto io perchè non è mia scusa ho perduto ah ma sai che ho capito chi chi è quello che fa lì si lo seguo vai libera non ce ne frega un cazzo vai libera su no ma ecco a posto proprio così d'ignoranza no capriano oggi tu va benissimo lo facessimo non si rica stare domani le otto e mezza e vedi come l'aggro ma si è una merda alla una c'è la scala e piso e l'altro non so dove si è andato con le scale eh drick il nabbo era l'altro si è troppato da qua l'altro si è andato con le scale visto le scale che stia e l'altro si è andato con le scale e rilasci e rilasci e che ha fatto la merda? oh non gioco da un merda chi cazzo ti conosce? ma dov'è diversissimo sentire il gioco da un queste buffe migliora perchè quanto sono importante e non gioveremo davanzo qua la gente non ha mi pare detto si mirando quattro i rame 4 domanda che non tocca vorremmo t no ci vediamo da quando mi sono preso ma stasera non gioca più a rainbow do però che ti devo parlare di una cosa aiuto non mi abbandonare non mi abbandonare con chi parlare con te ah no io ho capito però non ho capito ma ora mi invita e me lo dice ok però chiudere il gruppo perchè penso che sia una cosa importante del team vero? cioè aiuto per le prossime strade ciao si 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 la so drecht posso partecipare a qualsiasi tuo video direi? va bene ma chi è tre si 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 ci devi pagare il cibo se paghi tutti rocky ma 1 euro luna è sempre pago però va bene ha detto veramente rocky posso partecipare o qualcosa? rocky ha detto drake Capisci i coglioni per lampioni Ema Torna a dire E' un Ema Io me lo guardo questa che ho spaccato Gabriele Devi seguirmi un attimo Vieni qua Vieni qua seguimi un attimo No ti devo far capire cosa è combinato Ferdy No aspetta Allora lui si è messo Con Zofia Doveva rompere la cosa Questo è quello che ha fatto lui No non mi ci do Vabbè prima ha fatto la cam Con quella No no Ora come si sento un cazzo Tutte due qua Tutte due qua E' un'altra cosa Soprattutto nella camera Capisci No ma affatto Va qua qua Va qua qua Dello scoppio E' che è scarso Vedendo volti e' le drone E' ucciso Nello di palma Nello di palma Guarda le altre scale A testa è dietro A testa è dietro albergo Il letto è la sinistra No 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 Questa è la scoprata No 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 Questa è la scoprata Guarda come il drone Gabriele Guarda Alexio Tu non contatti Ciao Grazie per l'arte E' ma Vuoi fare il nuovo 007? La carta che hai fatto Quell'uno lì Gli editori E' ma ci vediamo poi Nel torneo Per castarti il match Quando cresci? No ok Non mi abbandonavo Poi lo faremo Tranquillo Ciao ragazzi Ciao Nabbo Bella Ok